Ciao a tutti, oggi sono qua per aprire con voi un pacchettino veramente molto molto speciale Non potete immaginare quanto io sia emozionata nell'aprire questa busta Perché era una cosa che aspettavo da un po' E... e niente Eccola qua! Sì, da così non sembra niente di che, ma fidatevi Tadà! Anzi, tadà! Ebbene sì, questa maglietta ha un logo personalizzato ispirato al canale Come potete vedere, ci sono io che guardo la bibi! Questa maglietta la potete trovare sul sito Snaptrend Uno store di abbigliamento mano solo che ha la particolarità di avere tutte edizioni limitate con timer d'acquisto Il disegno personalmente mi piace veramente tanto Perché la ragazza ha un che di fantasy pur essendo comunque nel mondo reale Ha questo sguardo da sognatrice che incarna secondo me alla perfezione il senso del canale C'è poi scritto Time to be a cat che è la frase riportata su tutte le grafiche dei miei vari social Questo perché amo tantissimo i gatti e sono una delle mie fonti principali di ispirazione Lo avevo già detto in qualche altro video ma continuate a chiedermi perché il canale si chiama Chibi is the way Ebbene, il canale si chiama così perché amo i gatti e la mia gatta si chiama Chibi Quindi volevo creare qualche cosa che partisse appunto da questo mio amore per i gatti Inoltre io la vedo come una frase motivazionale per me stessa Che se voglio fare qualcosa, essere qualcuno, posso esserlo È tempo di essere un gatto, di realizzare i miei sogni e i miei progetti Spero quindi che questa maglietta possa piacere anche voi e soprattutto che vi possa ispirare a non mollare mai A realizzare i vostri progetti e non demordere seguendo i vostri sogni Questa maglietta è in edizione limitata e la potete acquistare sul sito Snaptrend Di cui trovate il link qua sotto in descrizione Io sono felicissima e li ringrazio veramente tanto perché la maglietta mi piace tantissimo Adoro il disegno, i colori, è bellissima e non vedo l'ora di metterla tutti i giorni Ringrazio già da ora che avrei intenzione di acquistare la maglietta e sostenere quindi il mio canale Il lavoro che faccio, grazie veramente di cuore Non potete immaginare quanto sia importante per me il vostro sostegno e il vostro affetto Mi renderebbe poi immensamente felice ricevere le vostre foto con la maglietta indosso Quindi se avete intenzione di acquistarla mi raccomando fatevi una foto e mandatemela su qualsiasi tipo di social Trovate tutti i link qua sotto in descrizione Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima Ciao